C'è stato un momento drammatico in cui si sono trovati in tournée insieme in Spagna e sono andati a vedere le cose di Gaudì e sopra un campanile e Pupi Avati che lo guardava e Lucio disse ma non vorrei mica buttarmi giù. È un racconto che piace molto perché ha dei risvolti comico grotteschi diciamo. Il fatto che si è subentrato a Pupi, cioè è entrato come secondo Clarino a un certo momento questo giovanissimo promettente musicista bolognese che si chiamava Lucio Dalla e in pochi mesi fosse diventato più bravo del primo clarinetista che era Pupi e che quindi questa cosa avesse fatto venire una gran rabbia, una grande gelosia a mio fratello, questo è sicuramente vero.